Ciao! Ti ricordi di me? Sono la Befana e... come vedi sono venuta a controllare la posta. Vediamo, vediamo... Oh, per Babbo Natale! Riceve le sue lettere già a maggio! Di nuovo Babbo Natale. Oh, per la Befana, cioè per me. Apriamola subito. Chissà chi mi ha scritto. È una scuola di magia che mi sta invitando. Non sanno che io non sono affatto una principiante. Vediamo comunque che cosa mi possono insegnare. Dunque, la candidata si presenti alla torre... Una torre? Ragazzi, c'è nessuno! Prima mi invitano e poi loro stessi non si presentano. Allora, la torre, la torre... Ah! La torre non quella di Popetrol. La torre dei maghi. Sono proprio una sbadata. Andiamo! Ah, la torre dei maghi. La torre dei maghi. Scusi, scusate, c'è nessuno? È questa la torre dei maghi? Salve Befana, sei proprio nel posto giusto. Bene, bene, perché sono stata invitata a un corso di magia. Spero sia un corso di alta formazione perché io sono già una professionista. Ma certo, Befana, per prima cosa imparerai a lavorare con la bacchetta magica. Vi faccio vedere. Sì, vabbè, Befana, ma questo lo fai sempre. Prova con la bacchetta magica. Eh, va bene, provo con la bacchetta magica. Abracadabra, cadabra. Abra. Bravissima! Oh, questo non l'avevo mai fatto prima. Mmm, brum brum brum, brum 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 brum. Benissimo, la tua prossima lezione sarà con Robbo. E va bene, vado da Rubble. Rubble! Ciao, Rubble, mi hai mandato Marshall per la scuola di magia. Oh, ciao Befana, benvenuta. Sono pronta, che cosa facciamo? È molto semplice. Devi fare in modo che le palline ritornino nella piscina. Oh, ma è molto semplice. Che cosa serve la magia? Una, due, tre... Stop! Ma insomma, Befana, è una lezione di magia. Devi usare la bacchetta magica. Con la bacchetta magica devi manovrare la palla dell'escavatore. Va bene? Oh, questa sembra difficile. E va bene, proviamo. Abra, cadabra, Befana, brava, brava, brava. Oh, brava, adesso prova a prendere delle palline. Brava, 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 Befana. Oh, oh, oh. Oh, Befana, brava, 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 brava. Oh, 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 oh. Una, una basta. Veramente le dovevi spostare tutte. E va bene, ma è solo la prima lezione. Datemi il tempo. E va bene. La prossima lezione è con Marshall. Mi piace Marshall, andiamo Ciao Marshall, sono la tua nuova elieva, mi sono iscritta alla scuola di magia Benvenuta! Se sono perspicace, scommetto che il compito di oggi è connesso con questa casetta Maga, Mago, la casa è un po' no! Marshall, ma che cosa hai fatto? Ma questa è magia distruttiva, stai dando fuoco a una casa Presto, bisogna trovare un estintore, un estintore, un estintore, dov'è l'estintore? Estintore! Ma no, Befana, puoi risolvere tutto con la tua bacchetta magica Ah, davvero? Proviamo Nuvola, nuvoletta, fai pioggia sulla casetta Ma è meraviglioso, sto spegnendo l'incendio Benissimo, l'incendio è spegnito, brava Befana Ma pensa a te Benissimo, la mia lezione è finita Eccoci qua, brava Befana La tua prima giornata di corso volge al termine E' stato molto molto interessante, lasciate che vi ringrazi con delle caramelle Oh, che brava allieva Eh, lei si che sa come rabbonire gli insegnanti E' stata un'allieva modello per me Oh, grazie Marshall, grazie E a te piace andare a scuola? Mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti le prossime avventure della Befana Che sono io Ciao Ciao